Vado? Allora, come testo ho scelto, sono un mostro che vi parla di Polve Presiado, che è un testo appunto molto breve, di un centinaio di pagine, ma molto denso e intenso ed è stato per me fondamentale su più livelli, a livello artistico, a livello personale moltissimo e anche a livello politico. È un testo particolare perché in realtà nasce come adattamento a un discorso che Presiado tiene nel 2019 per le giornate internazionali dell'École de la Côte de la Côte d'Odienne a Parigi e in questo testo Presiado mette in luce la complicità della psicoanalisi con l'epistemologia della differenza sessuale. Che cos'è l'epistemologia della differenza sessuale? Innanzitutto intendiamo epistemologia come un sistema di valori sui quali la società si fonda. Nel caso particolare dell'epistemologia della differenza sessuale che cosa succede? Che dei costrutti sociali vengono dati come naturali, quando in realtà naturali non lo sono. In questo caso specifico si tratta di binarismo di genere. La parte che più trovo interessante di questo libro è proprio questa comparazione che viene fatta tra il corpo e la terra. Quindi il corpo viene, il binarismo di genere sta al corpo come la cartografia sta alla terra. Quindi sono queste linee immaginare che vengono tracciate artificialmente che però poi di fatto con la realtà, con la corporealità, con la fisicità del reale hanno poco a che vedere. Infatti l'epistemologia della differenza sessuale non è sempre esistita. È una cosa che è andata strutturandosi a livello storico e è andata cristallizzandosi più o meno intorno al XVIII secolo insieme alle pratiche coloniali. Vorrei chiudere leggendo una piccola citazione dal libro. Il corpo trans sta all'anatomia normativa come l'Africa sta all'Europa. Un territorio da fare a fette e distribuire al migliore offerente. Il seno e la pelle alla chirurgia estetica. La vagina alla chirurgia di stato. Il pene alla psichiatria o all'anamorfosi di Lacan. Ciò che il discorso scientifico e tecnico occidentale considera gli organi sessuali emblematici della mascolinità e della femminilità, quindi binario maschile-femminile, il pene e la vagina, non è più reale del Ruanda o della Nigeria, della Spagna o dell'Italia. C'è una differenza tra una collina verde che sorge sull'altro lato di un fiume e un deserto che si estende sul lato spazzato del vento. C'è il paesaggio erotico di un corpo. Non ci sono organi sessuali ma in clave coloniali di potere. Grazie